Non è sicuramente un fulmine a cielo sereno, è tutta una serie di questioni che si trascinavano e vista la sostanziale inoperatività e immobilismo dell'Unione Montana. Paolo Mares, già sindaco di Castelcucco, era in carica dal gennaio 2016 e ha portato a completamento il piano antenne per la telefonia sul versante trevigiano del Grappa. Resta ancora incompiuto il riconoscimento della biodiversità del programma Mab Unesco. I sei comuni di Borso, Pieve, Cavaso, Monfumo, Castelcucco e Possagno, oltre 20.000 abitanti in totale, svolgono in forma congiunta le attività di protezione civile e prossimamente anche della polizia locale. Da una parte, secondo Mares, i sindaci sono poco collaborativi. Purtroppo hanno pochissimo tempo da poter dedicare a enti così suora comunali. Dall'altra, lo sguardo sul territorio deve essere più ampio. C'è la necessità di una visione di prospettiva e sicuramente ridursi a coltivare il proprio orticello, credo che sia ormai anacronistico. Dobbiamo assolutamente pensare a uno sviluppo del territorio che vada al di là del singolo comune. La prospettiva a lungo termine è quella di un unico comune, a cui potrebbe unirsi anche Pederobba, interessato a rientrare nell'Unione Montana. È quello che auspico francamente. È chiaro che ci vuole tempo. Non è una cosa che si può fare da oggi al domani. È una cosa che si deve coltivare. Resta aperta la questione dei finanziamenti, sempre più ridotti. Ad oggi il bilancio è di appena 150.000 euro con due dipendenti. Nei prossimi giorni il successore del dimissionario Mares sarà indicato dal Consiglio dell'Unione.